A meno di sorprese dell'ultimo secondo Gianfranco De Massis è sindaco rieletto nel comune di Elice in provincia di Pescara. Gianfranco De Massis che lottava la sua partita elettorale contro il quorum ha stravinto questa partita perché l'affluenza Leone già nella serata di domenica superava abbondantemente il 50% dei votanti. Il primo quorum è ormai superato abbondantemente già da ieri sera, i numeri parlano chiaro, naturalmente però dobbiamo aspettare lo spoglio di domani mattina che avverrà dalle 9 in poi. Speriamo che comunque andrà tutto bene. C'è stata un'ottima affluenza, tutti i cittadini che noi abbiamo invitato a recarse le urne sicuramente hanno dato questo ascolto anche per giurare naturalmente il commissariamento. Commissariare insomma il comune specialmente in queste situazioni durante anche questo periodo che il covid diciamo che è così non è ancora finito, siamo stati in zona rossa, le cose sono andate abbastanza bene però dobbiamo sempre prestare attenzione, dobbiamo stare attenti. Adesso ci sarà da aspettare solo lo spoglio di martedì alle ore 9 per capire quale sarà la nuova squadra del sindaco Gianfranco De Massis che ha già le idee chiare su quale sarà il futuro del comune di Elice. La partenza del restauro e la messa in sicurezza del castello è il nostro progetto principale, oltre naturalmente a tutto il resto, zona artigianale, commerciale, rifacimento ormai o perlomeno il completamento dei manti stradali comunali, la sistemazione del cimitero, dobbiamo pensare alle attività per fare in modo che i nostri ragazzi non devono recarsi fuori comune per trovare lavoro e naturalmente per migliorare il tessuto sociale. Diciamo che l'amministrazione comunale deve essere attenta a 360 gradi.